Sempre ha scontato il ricorso a nuove misure per il contenimento del Covid in Sicilia. In gran parte dipende da chi si ostina ancora a boicottare i provvedimenti come quello sul Green Pass. Gli esperti parlano di fasce di rischio riferite al numero di contagi e a quello dei vaccinati. Per il CTS è opportuno intanto rispettare tutte le misure con comportamenti adeguati per limitare la diffusione del virus. Ribadiamo senza stancarci di farlo che il vaccino è l'unico mezzo efficace che ci rimane per fermare l'avanzare dei contagi ed evitare le misure di cui si torna a parlare. Secondo il CTS l'unico parametro di riferimento attentibile scientificamente è la vaccinazione completa, cioè la doppia dose o la monodose secondo il vaccino somministrato. Ieri abbiamo mandato in onda il toccante appello di una signora ricoverata per Covid che ha voluto invitare la gente a vaccinarsi. La commozione di questa donna e le sue parole speriamo riescano a convincere che contro il Covid non ci possono essere manifestazioni di piazza o rivendicazioni, ma solo la voglia di salvezza, la voglia di tornare a vivere nella normalità, vaccinandosi.